Potrei stare qualche impazzità su ciò che tu hai detto, come ti chiami? Patrizio Patrizio, ecco No, ponendo che sono molto contenta per quanto ci riguarda oggi mi fa piacere anche vedere tante persone, eccetera quindi posto tutto questo bel preambolo felicissimo che mi deriva anche da una delusione poi su come erano andate le cose ultimamente posso già parlare per la mia tradizione di DS, sinistro giovanile negli ultimi anni, io non so quel che tu abbia seguito, però ecco per non lo so, cioè la questione giovani veniva sollevata e sbandierata al momento di una elezione amministrativa, politica, fai te e quindi c'è si ritiravano fuori i giovani per dire vedi c'è un partito nuovo, andiamo avanti, eccetera fine, dato il voto, quindi ecco quella cosa che tu dicevi il nostro fatto è in più un po' la gestione dei pochi giovani che io ho sempre visto, parlo di quello che era il mio partito qui a Grosseto, quindi ecco Grosseto città Grosseto città, quindi circoscrivo il raggio della mia analisi in questo senso Grosseto città è una tragedia se posso una tragedia, cioè veramente io poi ho sempre partecipato, dicevo prima Marco di essere a livello, sì ecco non, insomma giovanile, però per quello che a livello di segreteria insomma avrei conosciuto persone, ecco c'è veramente una gestione pessima però quello che avevo sempre constatato io era che la questione giovani, donne, taratan, taratan cioè ecco c'è minoranza e veniva tirata fuori all'uopo, ovvero quando si trattava di darsi questa faccia, questa facciata di partito, insomma c'è anche un resisto e poi accantonava se ora le cose cambiano per venga, quindi questo c'è inseriamo e sono contenta di sentire tanto entusiasmo, benissimo però volevo dire, essendo io un po' a mezzo, perché ancora studio, ho dottorato e insegnando anche un po' nelle scuole, c'è la tiene greco così, vedo varie cose, purtroppo vedo anche tanti giovani e tutta questa fiducia io non ce l'ho, per un motivo però, che vorrei dire io sento dire continuamente frasi come quella che tu hai detto, contro la quale non ho nulla è, cioè sia chiaro, però non siamo noi che ci distacchiamo dalla politica maestra che a distanza c'è da noi eccetera, va benissimo la c'è trasettina pregnante così io però purtroppo sono predisposta a non dare tutta questa colpa alla classe politica eccetera che è distaccata, che non sa più parlare e qui da sta cosa la c'è morettiana io quel che vedo a me è proprio, soprattutto, ma insomma generalizzata in Italia, però nella fascia giovanile un'incultura profondissima, in cultura vado in ogni ambito, dalla lingua c'è dall'italiano alla storia e questa, questa cosa qui secondo me genera poi un distacco profondo dalla politica, perché quando dentro sei profondamente ignorante e perciò profondamente credimi, ci sto con i giovani, intendo profondamente, è da lì che viene assopita qualsiasi belletà di, che dico, ideologia, dico curiosità, dico il desiderio di inserirsi in qualche organismo dico il desiderio di associarsi, quindi ecco, se secondo me, Parco, c'è secondo me vivendo anche tra gli insegnanti ed anche però tra i giovani ed anche tra gli studenti secondo me quello che deve essere fatto, ma proprio la molla dalla quale bisogna partire, principiare insomma, è riformare i giovani dal basso in questo senso, cioè io non do le colpe al politico che non sa parlarmi, potrebbe essere vero, parla Cervanteschi, oppa capisco tutto, va bene, ma non è quello il punto, è che dal basso non si hanno proprio gli strumenti per comprendere, per essere interessati, se Cervanteschi ha una come dire, una caratteristica estremamente certapositiva, è forse quella di, abbassando molto il tiro, di avere una capacità carismatica di catturare un po' di attenzione in questo popolo di morti, soprattutto a livello giovanile, mi dispiace ma io questo ce lo vedo, voi ci se non sembra facile, quindi ecco, secondo me cosa andrebbe fatto? Andrebbe fatto una cosa c'è dal basso, proprio di ridare una cultura di ogni tipo, non è che parlo di una cultura che sia c'è settoriale, perché secondo me è da lì che si creano gli strumenti con le quali le persone possono poi accostarsi bene alla politica. Sulla cosa che lui, ecco, che tu Marco avevi detto prima, di andare a pescare nelle scuole, di ricontartare un po' quelli che sono i rappresentanti di classi, istituti, eccetera, e rileare qui una rete. Io sono, figurati, cioè ti adoro, sono d'accordissimo, no, c'è questa cosa, perché ora basta, sta frattura tra società civile e politica, ha staccato un po' tutti, penso. Ora, se questo fosse possibile, secondo me, che la gente sia quella che è, quindi facciamo come diceva Seneca, noi ci appartiamo sfiduciati e disperati sempre, anche nella speranza, che è la cosa migliore, no, che ti c'è tutela dalla illusione pura. Secondo me questo potrebbe essere utile, perché negli anni settanta, ma anche ottanta, nelle scuole, assemblee, c'è di classe, di istituto, non voglio dire ora che fossero tutta seretà e dibattito, dialettica pura, però c'è si parlava, io c'è, insomma, lo ricordo anch'io che c'erano persone che, insomma, ti sapevano già gestire un'assemblea con gli studenti che ti ascoltavano, tu basta, tu ora vado a cena di scuola un attimo, sono ore di baldoia pura, pura, ma proprio senza neanche un minimo di contenuto, ma che sia minimo, minimo, perché la gente non frega niente. Ora, se però si riesce, come ce faceva il PC prima, poi il BBS, eccetera, però di tessere a livello giovanile, un minimo c'è di relazioni, c'è di ragnatela, insomma, con i rappresentanti per andare lì a ripescare un po' l'interesse c'è dei giovani, anche prima che votino, non importa, perché vanno presi, insomma, presto per l'appunto, ben mega questo, e questo secondo me ci sarebbe una cosa da fare, partendo dalla disperazione pura, ecco, senza aspettarsi nulla, perché quello che io vedo è veramente una situazione di stacco allucinante, però secondo me questo ci sarebbe estremamente positivo, cioè andare a ricontattare tutti questi c'è soggetti che hanno ruoli all'interno dei singoli istituti, relazionarli tra di loro e con voi, insomma, con noi, con quelli più impegnati attivamente, e cercare con l'attività con qualche iniziativa, ecco, di riprendere un po' i giovani, perché quello che prima ha detto Massimo è verissimo, quello che il vuoto che si crea con il discerarsi di tanti a politici, a me non me ne frega niente, a me non me ne frega niente, io faccio il mio, benissimo, io lì vedo il pericolo più grosso, lì c'è poi dove vanno ad appozzare dittature di cerchi pensiero, pensieri completamente perversi alla Berlusconia, o completamente stupidi del rincitulito, rincituliti da televisioni e quant'altro, in quel vuoto lì tutto questo poi dopo c'è Fambaldoria, quindi volevo dire questo, cioè sui giovani, che secondo me la situazione è in questo modo, purtroppo per viverla e nasce, ecco questo volevo sottolineare, non nasce dall'incapacità di comunicazione dei politici, che avranno tutti i loro cerdifetti, nasce dall'incultura profonda in cui vivono a giorno d'oggi le persone, per famiglia, perché completamente rinfrondati da quella macchinetta, perché non leggono più nulla neanche la gazzetta dello sport, quindi nasce da quello, ecco c'è il problema, se poi partendo da questo, cioè si riesce a qualcosa, benissimo, basta.